Gesù, vivendo in mezzo a noi, non ci ha spiegato perché si soffre, ma ci ha mostrato la via per dargli un senso. Sopportando con amore il dolore, ci ha mostrato per chi si offre, ha offerto la vita per noi e con questo dono, che gli è costato tanto, ci ha salvati. Lo ha detto Papa Francesco rispondendo alla domanda sul senso della sofferenza di Valentina, un'infermiera dell'ospedale Bambino Gesù, ricevuta in udienza in aula Paolo VI con medici, dirigenti e piccoli pazienti. La speranza ha aggiunto il pontefice e la benzina della vita cristiana e ci fa andare avanti ogni giorno, come figli di Dio, semplici e lieti. A Luca, neolaureato in infermieristica pediatrica, che ha chiesto al Santo Padre quali devono essere, oltre a quelle professionali, le qualità per operare in un ospedale come il Bambino Gesù, ha indicato il mantenimento sempre vivo dei sogni, che non vanno mai anestetizzati. Dio, ha sottolineato Francesco, comunica a volte attraverso i sogni, invitando a realizzarne di grandi, anche se difficili. Ci spinge a non fermarci nel fare il bene, a non spegnere mai il desiderio di vivere grandi progetti. Mi piace pensare che Dio stesso, ha affermato Papa Bergoglio, ha dei sogni, anche in questo momento, per ciascuno di noi. Una vita senza sogni non è degna di Dio, non è cristiana, una vita stanca e rassegnata, dove ci si accontenta, si vivacchia senza entusiasmo, alla giornata.